sulle motivazioni quella frase che si occupa un migrante tra le altre cose già destinate a una misura espulsione con tesi francamente incomprensibili come le caratteristiche fisiche del migrante adatto ai cercatori oro in tunisia non sono un di agreement le dagree la difesa aziendale vedo dall'altra parte mi preoccupa piuttosto perché poiché un magistrato libero di dire che una disposizione del governo è illegittima il governo può dire non d'accordo senza questo significa attaccare una categoria così il primo ministro giorgia meloni in sky tg 24 come parte delle celebrazioni di sky 20 anni il governo ricorrerà alla corte cassation contro l'ordine del giudice di catania che ha annullato la detenzione nel cpr 4 migranti il ministro nordio lo ha annunciato alla camera questo ministro è in perfetta armonia con l'indirizzo del primo ministro cioè perfettamente in linea con ciò che meloni ha detto ha detto il ministro giustizia carlo nordio sul caso del caso giudice di catania che ha revocato la detenzione della quattro migranti di un cpr lo hanno detto in terza persona abbiamo esaminato attentamente la misura e riscontrato criticità nell'interpretazione di alcune regole complesse nella parte del motivo ci sono distonie tecniche che stiamo valutando insieme al ministero degli interni che proseguiranno con noi appello alla cassazione ha affermato nordio in questione parlando non mi sembra che sia in corso uno scontro istituzionale o che le espressioni utilizzate dal primo ministro abbiano uno scontro istituzionale come soggetto la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da qualsiasi altro potere stabilito dalla costituzione autonomia e indipendenza ha detto il guardasigilli